Come farò col tuo cuore di spine Lo guardo da giorni e non trovo il coraggio Di venirti a cercare perché sei una scintillana Come farò col mio cuore d'argilla Edizione straordinaria Proprio in questo momento sono giunti in redazione I risultati dello spoglio che vede eletto come Presidente della Repubblica Alessandro Leotti Meglio noto come G-AX L'ex rapper, leader del gruppo politico l'italiano medio Terrà breve il suo discorso Il suo discorso Il suo discorso Il suo discorso Il suo discorso